oh oh tengo a te buongiorno buongiorno un cazzo ma perché perché da giapponcuno oh adesso si che se sta bene oh mi sento proprio mi sento proprio sta pieno che stefa sei rotto come mai adesso finisce la roba così così si fa oh no tocca fare la zucchettina di aria ma te di coglioni tocca fare la zucchettina ah che seppia oh ma vattene va via ma c'è un cazzo da fare la famo la zucchettina ma va a fa quel che c'è da fare la zucchettina te trema la mano te la levata perché te la appiccico tu lì ma te trema la mano te trema eh 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 attenzione che padre spio controlla c'è anche il parastinco di santubaldo non te trema non te trema il braccio non ti tremo il braccio ma non ci crema eh che crema Cleopatra no dai Cleopatra che t'ha fatta adesso battene dalla luce scema così va bene ma te trema un po' il braccio non te trema il cazzo ma trema no vabbè quel cazzo no dai ste parole guarda come fa 3 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 5 ril pilil polpette non amarillo ma come li fai col sugo il sugo rosso del rosso delle polpette del la ricetta la famo vedere una bella ricetta va bene che c'è sta e mette niente ingredienti segretissimi ma non sei cattivo faremo la ricetta delle polpette ho portato la chiave io robo chiacchiere sì sì ma questo non levo perché no lascilo no ci metto questo no ci metto questo no lascia sta ma perché te dentro mette sulle cose che non sono le tue la questa la macchina mia la macchina è la mia la macchina è la mia bello orsetto lavatore con questo capellino bello bello il capello non è bello per cazzo che c'è tutta pesce c'è la pesce come mai mi ha dato la brillantina quello ma chi ma quel dottor del cazzo no che belli sti capellini tutti ci 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 sembri un orsetto lavato il cardinale risce lì guarda è stato fermati la fedeli fermati a me che vuoi grattini pettinoso ma mi fai come dai pastiglio i grattini pettinoso annaggia che risvolto oh e non lo metti e io ti fai grattini anche sui sulle te li qui c'è chi è di chi è entro lì tutto qui dentro la macchina i pochi cazzo hai capito? i pochi cazzo che vuoi? i pochi cazzo è un pochi cazzo guardate che passo marchino incredibile eccolo buongiorno come si è messo il sudoku come si è messo il sudoku eh? si 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 va beh l'importante è che ci abbiamo parlato che è tutto appunto al sudoku come si è messo la natura il bosco che aria buona eh? spettafolare peccato al sudoku eh si hai studiato un po? eh no devo prendere ancora lezioni vabbè dai piano piano arzughe? oh carzughe o no? carzughe o no? carzughe o no? carzughe o no? carzughe però carzughe oh carzughe eh? quella bella poesia ma quelle te la ricordi quella in inglese? c'è da inventare ma dopo le pause per la razzughe hello mary hello mary full of grape full of grape the mister is in the winery more drunk than before no no è bella è una poesia bella in inglese eh allora dillo tu io è una bella poesia è del rrrrrrrr da via eh? da via eh? da via eh? ah allora triplo caglio caglio non è possibile guarda che è? non è possibile che un cane dalla faccia mia melecca guarda che da me melecca mi guarda che te lecca? guarda coglioni no guarda come guarda non sei bravo buoro cocco fai una carizia levate buono levo sto ciucco no 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 sempre con sto ciucco no no ma c'è il saggio ma che saggio che saggio ma dormino? ma f*****o attenzione ma vattene tangentopoli vado a covrire il coccodrillo eh covrire tangentopoli incredibile indagato oh ma adesso mi 10.000 euro dell'ardo tra i 20 anni e i 10.000 euro non so mai come infatti tutto bene? no ma tutto bene? ma adesso va bene però... ma ti hanno messo i gesti sui piedi? come mai c'è il gesto sui piedi? le stampelle non c'è mai puntuale www.carlettolife.com potrete trovare tutto adesivi maglia stronzo con le S più grosse di sfigadoro si dormimo si 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 è venerdì buongiorno un cazzo ci saranno le cartoline firmate da me e nonno faustino quindi cliccate il link ultime robe ultime settimane disponibili e poi si chiude quindi cliccate sul sito potete trovare molta altra roba tipo felpe di tutto e di più andate a vedere cliccate qua sta firmando io non ho firmato un po' e vi arriverà la cartolina eccola qua cheppola un altro goccino ma tu ma vuoi mettere quello che ti fa da testo? ma io non la voglio bevela oh,'". ma vorresti mettere il miaaggio? eh so io che te sto bestemmiando e che io ma te sto a idratare tu per me sei come il mio fiore tu da me lasciami bere io bevo e mangio quel che mi fai perché perché non è possibile che quando sto mangiando ci vengo e io te ce porto e chi ha poperti qui e te ce porto ma guarda c'è padre spio il parastinco di santubaldo tu sai una cosa quando metti questa maglia verde sembri un po' un asparago non fa niente perché vai vai non fa niente che sembri un coglione no fermate porca maria ma io fai più aria ma che tu non mi hai avuto ma perché ma perché che mi voglio tutto il giro dopo per te è un buchetto ma che Dio caro no e ammettere di bucare le sacchette la trovo tutto giro per casa e ammettere stronzo 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 calendario calendario non serve buttatevi al calendario è tornato pigiama già pisciato perché devi aver già pisciato se no un disastro cioè non ce la fai te la fai a letto comunque vi avevo detto che avrei messo dei video sulle storie di nono faustino non mi sono dimenticato l'ho fatti solo che non c'è stato un problema nel caricarli su youtube domani li devo rifare quindi devo rifarli tutti da capo ma spero che fine settimana almeno uno ne esca perché ho avuto problemi con la telecamera quindi non è che mi sono dimenticato ma sta tutto qua non vi preoccupate non vi preoccupate anche quando mi ho detto non vi preoccupate sta tutto qua tempo calma tanto voglio dire cioè non mi chiedo mai niente calma calma non vi preoccupate io adesso vi auguro una buonanotte ci vediamo domani domani sera vi ripeto sarò a Latina a Rio mi disse non vi preoccupate non vi preoccupate